ciao a tutti carissimi ben ritrovati nel canale allora oggi incominciamo con il miliardario dedicato a franco cataldi ciao franco e scusami se ti faccio gli auguri un giorno dopo perché so che ieri è stato il tuo compleanno però mi devo pregare comunque che quando in queste occasioni di dirmelo in tempo perché io non posso fare miracoli e mi dispiace però per esempio franco ieri non ho potuto fare video e comunque recupero oggi speriamo che sei d'accordo e ti faccio gli auguri con un miliardario con un miliardario da 5 serie 81 numero 27 ecco ti faccio ancora tanto auguri per il tuo compleanno e scusami se un giorno in ritardo ok e comunque penso che va bene anche così perché io non l'ho dimenticato solo che non ho ieri non ho fatto video ok recuperiamo oggi va bene e lo ripeto a dire per favore mandatemi in tempo la vostra richiesta perché mi devo organizzare ecco non posso da oggi a domani accontentare le cose certe volte sì ma più delle volte no ok allora buona visione a tutti buona visione a franco ecco qui il tuo miliardario vediamo un po' numeri ci dicono sono 42 21 12 40 e 22 ok primo numero abbiamo un 19 seguo 20 abbiamo 21 abbiamo un 15 niente 33 non c'è e 18 neanche abbiamo 37 niente di patto 27 niente niente 45 non c'è e 17 non ce l'abbiamo abbiamo 31 niente abbiamo il 21 39 niente 28 non c'è 32 non ce l'abbiamo ultimo numero 30 30 niente non c'è neanche uno della trentina mi dispiace branco che non ti posso prendere una vincita anche se è virtuale comunque ti saluto e ti faccio ancora tanti auguri ok allora continuo il richiesto sarà la prossima volta bene passiamo al prossimo biglietto che un tutto per tutto questo richiesto da tutto per tutto da ciao Elisa ciao Elisa ciao Elisa comunque con i numeri non ho avuto fortuna e spero che ti va bene anche questo è il numero 30 e tu mi hai richiesto un altro numero però questo è il numero 30 caro Elisa ok Elio Elisa non so se ti devo chiamare Elio Elisa vabbè ti chiamare Elisa bene allora vediamo un po' di tutto per tutto cosa ci dice i numeri vincenzi sono 17 38 30 43 e 24 ok primo numero abbiamo 45 che non c'è poi segue 28 niente 21 non ce l'abbiamo 39 c'è 38 abbiamo il 23 e c'è 24 15 niente 26 non c'è e 13 neanche ultima colonna abbiamo il 16 il 19 che non c'è 25 niente ultimo numero 27 è cara mi dispiace ma il biglietto non è 200 ci ringrazio per la richiesta e continuo a richiedere sarà per la prossima volta ok passiamo all'ultimo bigliettino di oggi ciao questo questo è il richiesto Tina per esce ciao Tina ecco qui il tuo tutto per tutto questo è il numero 22 ok Ok, vediamo un po' che ci dicono le paparelle. Pertina. Il numero di vincenzi sono 38, 46, 31, 44 e 30. Ok, primo numero, 34. Segue 16, abbiamo 18 e 45, niente, abbiamo il 44 e il 46. Abbiamo 22 le paparelle, che è il numero del buglietto, però non ce l'abbiamo come numero. 15, niente, 27 non c'è. 36, niente, abbiamo il 46. Ultima colonna. 25, niente. 33, no, non c'è. 42, non ce l'abbiamo, ultimo numero. 19. E vabbè, oggi è andata così, carissimi. Pertina mi dispiace, ma non è vincente il tuo biglietto. Se tre biglietti trattati, aveva fatto il recupero a zero. E sappiamo che succede anche questo. Comunque, vi ringrazio a tutti per l'amissione. Continuate a richiedere, pollici in su, di consolazione. Carissimi amici, saranno la prossima volta. Ok, condividete, iscrivetevi. Mi saluto calorosamente. Un bacio, un abbraccio alla Lina. Ciao, ciao a tutti. Al prossimo video.